Venerdì 8 giugno a Malalingua, nell'ultima puntata prima del voto del primo turno, sono invitati tutti i candidati alla poltrona di sindaco, nessuno escluso, chi c'è c'è e chi non c'è non c'è. Malalingua non mette veti su alcuno e soprattutto non accette imposizioni. Non possiamo perché lo dobbiamo ai nostri telespettatori, non possiamo perché lo dobbiamo alla nostra etica. Certo lo sappiamo che qualcuno grida più forte degli altri, De Luca e Trischitta hanno un altro tono di voce. Sui contenuti De Luca poi è molto diverso, ma Bramanti per la verità Malalingua, seppur invitato, non è venuto nemmeno quando De Luca non era tra gli invitati. E allora se ritiene, stia a casa, non fa nulla. Continueremo a stimarlo come persona e come medico, non condividiamo la sua scelta. Non comprendiamo il percorso da candidato, sì perché dai baci e dai regali dell'accordo fair play della provincia è passato allo scontro totale. Di mezzo una serie di accuse lanciate da De Luca, anche pesanti, ma che a turno De Luca è rivolto a tutti, a tutti i suoi competitor, da Saitta, Sciacca, Bramanti. Mi vedo costretto ad annunciare che non intendo più partecipare a dibattiti che vedano la presenza del deputato regionale e candidato sindaco Cateno De Luca, scrive Bramanti. Nei competitor al ruolo di sindaco non vedo il nemico, ma persone che come me sono animate dagli stessi ideali.